Oltre 2.000 piante di cannabis scanche e 468 di cannabis indica del peso complessivo di 5.000 kg sono state scoperte dai finanzieri della stazione navale del reparto operativo di Vibo Valencia e del gruppo di Lamezia Terme con l'ausilio di un elicottero della sezione aerea del corpo di Lamezia. La piantagione è stata individuata nell'area collinare del comprensorio di Maidan in Lamettino nell'ambito di una vasta operazione di prevenzione e repressione del fenomeno dell'illecita coltivazione di piante di marijuana è stato previsto anche l'impiego dell'elicottero A109N Nexus in dotazione alla sezione aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme partito in perlustrazione. Una volta che l'equipaggio dell'elicottero ha avvistato la piantagione i finanzieri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lamezia Terme hanno perlustrato la vasta area trovando le piante di cannabis in un appezzamento di terreno occultate dalla vegetazione e da alberi da frutta. Le piante erano tutte particolarmente rigogliose alimentate da un sofisticato sistema di irrigazione a goccia costituito da 500 metri di tubatura collegata ad una fonte d'acqua. Così come disposto dall'autorità giudiziaria le piante sono state estirpate e distrutte sul posto stessa sorte è toccata dal sistema di irrigazione mentre il proprietario del fondo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Si tratta di un'operazione di servizio svolta dalla Guardia di Finanza Calabrese nell'ambito della repressione delle coltivazioni del traffico di stupefacenti che ha consentito di sottrarre alla criminalità organizzata gli ingenti proventi illeciti. Infatti se immessa sul mercato la sostanza avrebbe fluttato circa 5 milioni di euro derivati dalla vendita al dettaglio dello stupefacente.